Ciao a tutti nel mio canale, io sono Tello e oggi andremo a costruire una mobile console da DJ Poco tempo fa avevo costruito due speakers abbastanza grandi, lasciati grezzi Quelli saranno la base di questo mobile Se non avete visto quel video non perdetevelo, vi lascio il link in descrizione e vi faccio apparire qui una piccola nota in cui potete cliccare per vedere il video Questo è tutto il materiale già tagliato, a parte qualche pannello che andrò a tagliare su misura lungo il percorso Queste sono le cerniere per le porte che dovremmo andare a costruire Questo qui me lo sono stampato io con la stampante 3D E' una dima per fare i fori per le cerniere Qui ho già cominciato con il mio progettino a prendere le misure per il foro E qui dentro andremo ad inserire in un doppio fondo il giradischi da DJ Comunque alla fine vedrete tutto Intanto cominciamo con fare questo foro e tutte quante La stondatura del pannello che sarà la parte superiore del mobile E il resto andrà di conseguenza La stondatura del pannello che sarà la parte superiore del mondo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.